Regolamento di igiene di 80 anni fa a Legnano La rilettura dei regolamenti di igiene di tempi passati ci offre delle considerazioni su quelle che erano le condizioni di vita e la realtà sociale di Legnano Il primo regolamento completo del nostro comune fu quello approvato l'8 giugno 1927 Legnano negli anni 20 del XIX secolo era già un centro industriale di grande rilevanza e l'ufficio sanitario con il nuovo strumento di igiene e assistenza sanitaria dettava norme precise al commercio e alle industrie locali e a volte ancora più severe di quelle di oggi Scorrendo le pagine e gli articoli del regolamento di igiene ne traiamo alcune curiosità E' vietato spazzare scale, cortile e strade prima di aver innaffiato Questo è l'articolo 185 I lavori relativi a fogne si faranno rapidamente e possibilmente di notte Articolo 197 La nettezza sulle strade spetta l'amministrazione comunale Stabiliva l'articolo 258 ma aggiungeva che I proprietari e i frontisti saranno tenuti alla polizia del marciapiede prospicente le loro case o negozi durante le ore mattutine e cioè dalle ore 6 alle 10 d'inverno e dalle 4 alle 8 d'estate E' proibito tenere in casa in comunione con la famiglia conigli e polli Era permesso di tenerli nel cortile o in giardino purché siano di esclusiva proprietà e non vi siano altri inquilini nel fabbricato Un ampio capitolo del regolamento si occupava della prevenzione di malattie Tra le malattie di quei tempi, oggi scomparse, si elencavano la pellagra, il tracoma, la trichinosi, il carbonchio ematico, la morva o farcino nell'uomo la tigna, la scabbia, anchilostomiasi una malattia che si riscontrava negli operai addetti ai lavori in galleria nelle miniere e nei cantieri delle opere pubbliche nonché delle fornaci e di alcuni opifici in particolare Tre ampi capitoli erano dedicati al regolamento di igiene del 1927 alla polizia mortuaria L'articolo 354 relativo al trattamento dei cadaveri stabiliva che nel periodo di osservazione di 24 ore dal momento del presunto decesso era proibito di porlo in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita Nella camera mortuaria del cimitero nei casi di salme non assistite direttamente si dovrà provvedere affinché le eventuali manifestazioni di vita siano trasmesse a mezzo di suoneria elettrica o meccanica all'abitazione del custode del cimitero Il regolamento prevedeva l'imbalsamazione di un cadavere ma non ancora la cremazione Nell'articolo 368 nel capitolo Vigilanza sui cimiteri stabiliva inoltre che il cimitero doveva avere campi distinti per cattolici e a cattolici Ma parliamo di cose più allegre Il comune negli anni venti aveva deciso di offrire a tutti i coniugi un libretto di stato famiglia che andava conservato con cura e presentato quando occorreva redigere atti di stato civile relativi a ogni persona appartenente alla famiglia che si costituiva col matrimonio Il libretto doveva anche essere presentato agli uffici comunali di anagrafe, di leva e ai vari uffici governativi in caso di vaccinazione dei figli per atti notarili e in tutte le occasioni nelle quali era necessario che le generalità e i dati scritti nel libretto risultino in modo sicuro Il libretto era completato da numerose informazioni pratiche dai diritti e doveri che nascono dal matrimonio ai consigli alle madri per l'allevamento dei bambini e le prescrizioni relative alle vaccinazioni dai soccorsi d'urgenza nei vari casi da prestarsi prima dell'arrivo del medico Infine, alcuni capitoli riguardavano il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali nei laboratori o in attività pericolose o insalubri Completavano il libretto norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e informazioni sul contenuto della legge 15 giugno 1893 numero 295 relativa alla conciliazione delle controversie tra imprenditori e maestranze sui diritti e doveri dei dipendenti e i datori di lavoro Grazie a tutti! Grazie a tutti.